Il treno regionale 11649, di trasporto passeggeri Emilia-Romagna, proveniente da Bologna Centrale, è diretto a Vignola, delle ore 5 e 49, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale 1085, di trasporto passeggeri Emilia-Romagna, proveniente da Casalecchio Garibaldi, è diretto a Bazzano, delle ore 6 e 20, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale 11519, di trasporto passeggeri Emilia-Romagna, proveniente da Bologna Centrale, è diretto a Bazzano, delle ore 9 e 01, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale 11558, di trasporto passeggeri Emilia-Romagna, proveniente da Bazzano, è diretto a Bologna Centrale, delle ore 8, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Casalecchio Garibaldi, Casteldebole, Bologna Borgo Panigale. Il treno regionale 11644, di trasporto passeggeri Emilia-Romagna, proveniente da Bazzano, è diretto a Bologna Centrale, delle ore 6 e 46, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Casalecchio Garibaldi, Casteldebole, Bologna Borgo Panigale. Grazie a tutti! Grazie a tutti.